Prima la vigilia della festa con i primi vespri e la commemorazione del transito, poi le celebrazioni nel giorno della solennità del serafico padre Francesco con la messa delle undici preseduta da Monsignor Riccardo Fontana e la processione alla Cappella delle Stimmate con la reliquia del sangue del poverello d'Assisi. Sono numerosi i fedeli che si sono recati al santuario della Verna per rendere omaggio a San Francesco, patrono d'Italia. Il Vescovo Riccardo nell'Omelia si è concentrato in particolare su tre punti chiave, vivere e testimoniare il mangiare nel mondo, incarnare il carisma francescano della fraternità e Francesco come maestro del rispetto del creato. L'ecologia integrale è inseparabile dal bene comune. Il Papa richiamando direttamente San Francesco ci chiede di non separare la crisi sociale da quella ambientale. Ci dice ancora, prendendo il messaggio di Francesco e rendendolo nel linguaggio contemporaneo, che la sobrietà è liberante. Vale la pena di essere buoni e onesti. L'umanità ha ancora bisogno della capacità di collaborare per costruire un mondo che non sia solo globalizzato, ma anche casa comune di tutti. La festa di San Francesco a Laverna ha messo in evidenza anche la ricchezza di vocazioni nel mondo dell'ordine francescano. Io penso che la mia vocazione francescana è nata da quando avevo forse otto anni, in casa dei miei genitori, nella mia città, mia città si chiama Cuernavaca, in Messico, io sono messicano. La casa dei miei genitori è stata sempre molto vicina alla chiesa cattolica e soprattutto ai frati francescani, quindi tutta la mia infanzia la ho vissuto insieme ai francescani, quindi penso la prima chiamata che ho avuto è stata più o meno quando avevo fra otto o nove anni di età. La presenza francescana in Messico è stata una presenza molto forte, tuttavia che i francescani e i dominicani sono i primi cattolici ad arrivare nelle Americhe, quando è stata la scoperta di America e quindi lo sviluppo sia sociale sia della religione è stata grazie ai francescani e ai dominicani, di maniera particolare in Messico e quindi questo come un antecedente storico e come parte della mia vita è stata una parte fondamentale della mia vita, tuttavia che sono cresciuto con i francescani. Anche io mi chiamo Francesco e quindi la storia di San Francesco mi sono innamorato con la vita di San Francesco, il suo modo di vivere il Vangelo e quindi mi fa questo, mi porta questo coraggio di continuare avanti e quindi per me è una grazia speciale di seguire le norme di Cristo nel mondo di San Francesco e quindi ma proprio io sono dalla custodia di Terra Santa, ma noi facciamo il novizio qua e quindi sono qui per avere questa esperienza, un anno di esperienza.